Ciao a tutti, oggi è giornata di arrivi, infatti è arrivata da Futura Elettronica questa scatola con un po' di oggetti che potremo guardare nelle prossime settimane e di cui farò recensione guardiamoli velocemente così magari nei commenti mi potrete dire se siete interessati a un oggetto piuttosto che un altro e quindi li metterò in ordine secondo le vostre preferenze cominciamo dal primo che è uno strumento della PIC DCA75, questo qua è un analizzatore di componenti avanzato infatti noi abbiamo visto la versione 55, questa è la versione Pro, quindi permette di fare misure più fini sui componenti elettronici sempre della PIC abbiamo questo ESR70 che è un misuratore di condensatori capacità in particolare dell'ISR, quindi del parametro parassita ISR poi abbiamo sempre della PIC, Zen50, misuratori di diodi strumento anche questo molto utile per chi esegue riparazioni e indagini sui componenti poi abbiamo tre strumenti della Proskit che sono un rilevatore di metalli e legno da muro quindi questo è un oggetto un pochino più commerciale ma sempre utile per chi fa lavori fai da te due multimetri sempre della Proskit digitali diciamo fascia economica e multimetro mini un luxmetro per cui ultimamente sapete che abbiamo fatto un po' di video su LED strip e anche effetti stroboscopici, il luxmetro ci potrà essere utile per fare delle valutazioni proprio su questo tipo di tecnologia poi un oggetto un pochino più commerciale ma secondo me molto interessante che è un termostato wifi touchscreen per poter pilotare la caldaia di casa, quindi anche questo secondo me merita una sua recensione e infine l'ultimo modello dell'arduino, l'MKR Fox 1200 che è un modello appena uscito e del quale potremmo guardare le caratteristiche ed eventualmente fare qualche programma interessante ragazzi, fra i vari oggetti quello che mi ha incuriosito di più è questo luxmetro che è della Proskit modello MT4617 come sempre vi lascio in descrizione il link per l'acquisto su futurashop.it all'interno della custodia, oltre al luxmetro troviamo una custodia e il foglio con le specifiche tecniche questo strumento è indispensabile per chi si occupa di illuminotecnica perché gli permette di stabilire con precisione il grado di illuminazione del fascio luminoso di un certo ambiente per dimensionare correttamente appunto l'illuminazione sia artificiale che naturale di un certo ambiente osserviamo velocemente le caratteristiche di questo oggetto vediamo che ci sono due range di misure uno in lux, l'altro in fotocandele per la misura in lux abbiamo a disposizione 5 range di misura per quella in fotocandele 4 range di misura il rilevatore ottico è di tipo a silicio fotodiodo e ci viene specificata la lunghezza d'onda alla quale lavora questo oggetto da 320 a 730 nanometri la precisione dello strumento varia da un più o meno 3% fino a un più o meno 6% nel caso che le sorgenti di illuminazione siano multiple la misura viene eseguita due volte al secondo almeno e dopo un tempo di 10 minuti il sistema si spegne automaticamente le condizioni di esercizio dello strumento per una misura ottimale richiedono che siano comprese fra 10 e 50 gradi con un'umidità relativa che possa variare da 0 all'85% lo strumento si alimenta con una pila radio da 9 volt e lavora fino a un livello di circa 7 volt dopodiché viene indicato il livello di batteria basso come prima operazione andiamo a inserire una pila da 9 volt sullo sportellino lato posteriore dopo aver inserito la pila richiudiamo lo sportellino e andiamo a stringere la vite agendo sul tasto power lo strumento si accende adesso che abbiamo ancora il coperchio sul fotorilevatore abbiamo 0.02 se andiamo ad aprire il tappo ecco che viene eseguita la misura in questo caso mi trovo sotto una lampada al neon e il valore misurato è di 354 lux quando si esegue una misura di illuminazione bisogna sempre tenere presente che il fotorilevatore è stato tarato considerando i raggi che provengono dalla sorgente luminosa come perpendicolari al suo piano di montaggio quindi quando i raggi sono obliqui bisogna considerare il coseno dell'angolo dei raggi incidenti per avere il vero valore misurato la prima funzione che andiamo a guardare è quella dell'unità di misura lux fc se spingo questo bottone la misura viene convertita in foto candele noi sappiamo che una foto candela equivale a circa 10.76 lux e di fatti vedete che il valore è stato diviso circa per 10 lo strumento ha una caratteristica di auto range quindi quando viene misurato un valore di luminosità viene selezionato il range opportuno però c'è la possibilità di forzare il range operando su questo tastino run e come si vede il valore viene scalato a seconda del range qua addirittura sono andato in overload perché ho scelto un range che non è compatibile con la misura attualmente disponibile al fotorilevatore il tasto di hold mi permette di congelare la misura attualmente eseguita per avere appunto memoria di una misurazione effettuata rispingendo sul bottone si risblocca il valore di lettura per la taratura invece del fotorilevatore è necessario tenere premuto il bottone di hold zero per almeno due secondi a questo punto lo strumento va in una modalità di adjust ecco dove viene settato il valore di zero con luminosità completamente assente questa operazione deve essere eseguita evidentemente sempre col tappo inserito per verificare gli estremi del mio range di misura posso usare il tastino min max se lo premo una volta va in massimo e quindi adesso se avvicino il fotorilevatore alla sorgente luminosa il valore aumenta e viene mantenuto il valore elevato quindi il massimo raggiunto quindi posso arrivare fino esatto all'estremo e vedete che memorizza il valore di massimo lo stesso discorso per il minimo se spingo un'altra volta sul tasto avrò la funzione minimo a questo punto se calo la luminosità vedete che il mio fotorilevatore memorizza il valore di minimo per ritornare in modalità normale basta tenere premuto il tastino per almeno due secondi spingendo sul tasto rel possiamo fare una misura relativa quindi diciamo che la mia misura di riferimento è 340 lux spingo rel a questo punto mi viene dato il differenziale rispetto alla mia soglia quindi 267 significa che sto misurando 267 lux in più rispetto alla mia soglia di 345 di riferimento nel video 375 avevo utilizzato un integrato che era il bcr 420 per piroltare delle strip led in particolare abbiamo due strip led da 9 volt e 100 mAh ognuna andiamo a misurare l'intensità di queste strip led considerando che la potenza che andremo a spendere per accendere questi led sarà dell'ordine di circa 6-7 watt in questo caso mi è molto utile la funzione max perché andando a girare lo strumento andrò a vedere qual è il valore massimo rilevato di luminosità quindi mi metto in perpendicolare rispetto ai led e vado a vedere il valore misurato il valore di luminosità misurato su queste strip led è di ben 89.100 lux che equivalgono a 8.280 fotocandele facciamo qualche considerazione sulla misura appena fatta abbiamo due strip di led ognuna da 9 led quindi in totale 18 led abbiamo misurato una illuminazione totale di 89.100 lux per cui potremmo dire e chiederci qual è la luminosità o il fascio di illuminazione del singolo led per cui andiamo a dividere 89.100 diviso 18 che è il numero di led e vediamo che ogni led ha una illuminazione di 4950 lux in questo modo possiamo anche stimare l'efficienza dei nostri led infatti se consideriamo la potenza spesa dal led per generare la luce calcolando la tensione diretta del led quindi vf per la corrente diretta if nel nostro caso 2 volte 55 e 100 miliampere per ogni led abbiamo che il led impiega 0,255 watt in questa condizione quindi per avere un riferimento sull'efficienza del nostro led possiamo dividere la luminosità di questo led per la sua potenza quindi 4950 diviso 0,255 abbiamo che questo led in particolare ha una efficienza di 19411 lux per watt ricordiamo velocemente la differenza fra lux e lumen entrambe rappresentano una misura del flusso luminoso ma mentre il lumen rappresenta una misura assoluta quindi la quantità di luce emessa da una sorgente isotropica in generale il lux è riferito invece a un'area di riferimento definiamo un lux come quella quantità di flusso luminoso costituito da una sorgente puntiforma isotropica in grado di generare un lumen sulla misura di un'area di un metro quadrato la stessa sorgente di un lumen se fosse valutata in un'area più piccola ad esempio di un centimetro quadrato avrebbe un valore di 10.000 lux quindi quando si effettano le misure con il lux metro è importante ricordarsi che il lux è una misura di tipo relativo lux metro proskit modello mt4617 in distribuzione presso www.futurashop.it www.futurashop.it edo www.futurashop.it www.futurashop.it Grazie a tutti.